Tola Fione! Ma cosa vuoi? Ciao Mike! Ti ho riportato le uova che mi hai prestato ieri. Ma ce ne avevo date tre. Erano tre, eh? L'altro te lo porto domani. Posso fare una telefonata? Fai pure perché adesso anch'io ho Happy Free Day di Infostrada. Chiamo gratis dalle 9 del mattino alle 6 di sera. Urbane e interurbane. Sembra pubblicità. Chi è? Allegria! Ma che c'entra Mike? Eh, non l'avevamo ancora detto. Chiama Infostrada al 159. Chiama Infostrada.